In collaborazione con Glam Vision e Caffacli. In Trentino 15.000 giovani non studiano né lavorano. L'azienda sanitaria è una condizione di disagio sociale che potrà avere gravi conseguenze nei prossimi anni. Un progetto per i NEED. Dall'azzurro delle nazionali a quello del Napoli campione d'Italia. Al via l'estate dei raduni e dello sport in Trentino. Legame positivo con il nostro territorio. Raccontare il Trentino del Vino, il libro mio con Attilio Scienza e Rosa Roncador vince il premio Biblioteca Lunelli. Angela, sono tornato. Come ogni anno! Ti stai divertendo, eh? E io chiamo il Caffacli. No, 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 il Caffacli no, no, no! Quando si avvicina l'ora del 7.30, non preoccuparti, c'è il Caffacli. Veloci e affidabili, come sempre. Prenota subito il tuo appuntamento su Caffacli.it